Retro etichetta special edition con me Silvia Mandini dell'azienda Mossi. Ciao Silvia. Ciao Adwa, ciao. Ti vedo bene, super colorata. Eh sì, stiamo invitando la primavera a darci un po' di tempo stabile, di darci la possibilità finalmente di metterci stabilmente le maniche corte, perché in questo momento ci stiamo vestendo, coprendo, scoprendo, coprendo, scoprendo, però tanta acqua santa perché comunque ci serve per dar da bere anche ai nostri vigneti che insomma soffrivano un pochino, ecco, perché c'è una botta di caldo, poi di nuovo di freddo, senza acqua, invece adesso stanno finalmente ritrovando un aspetto salutare, ecco, grazie all'acqua, alla pioggia. Silvia presentati con questo bell'accento, la tua azienda dove si trova? Allora, io frego in realtà, perché io sono bolognese di origini, trasferita a Milano dove ho conosciuto mio marito, che ho poi tirato proprio come se l'avessi accalappiato un po' all'amo e l'ho riportata nella mia bellissima Emilia, infatti la nostra cantina che si chiama Amossi 1558 si trova sui Colli Piacentini, in Baltidone che è un po' l'avamposto della zona dell'Emilia perché a due colline di distanza da noi si trova l'oltre Popavese, quindi per gli emiliani siamo già lombardi, mentre per i lombardi siamo emiliani un po' una terra al limite, borderline proprio, una terra di passo, come diceva Leonardo, però io mi ci sono trovata come a casa perché sono nata in mezzo alla natura, in mezzo alle colline, quindi per me è stato proprio un ritorno un po' all'infanzia, in mezzo anche alle viti perché effettivamente dove abitavo io c'erano i vigneti, molti fruttetti più che vigneti, però Bologna, insomma, il pignoletto e anche un po' di San Gioveso di Lambrusco si è sempre bevuta a tavola e io imbottigliavo con mio papà, quindi dovevo tornare, si vede, a toccare con mano le stagioni e la natura e occuparmi anche di loro e ci siamo dedicati alla vigna. Se me l'avessero chiesto anche solo 6-7 anni fa avrei dato dei patti, perché io lavoravo per una casa editrice, quindi non mi occupavo assolutamente di vino e invece cacchio è una passione, anzi proprio addicted, quindi in vacanza poco e per fortuna, perché quando andiamo via poi dopo vogliamo sempre tornare a casa, ma come saranno le viti tutte a posto e la cantina, i vini stanno lavorando bene, bisogna assaggiarli e poi abbiamo tante idee per il futuro, quindi stiamo facendo tante sperimentazioni, molto divertente il lavoro del vino, molto. Bene. E gente simpatica, sempre tutti simpatici e divertenti. Quella è stata una delle cose che mi ha più affascinato in questo mondo, cioè proprio trovare l'imprenditore però con un modo di fare, con un modo di comunicare, con un attaccamento alla terra che secondo me lo differenzia da tanti altri lavori. Silvia, quando tu presenti il tuo vino, cos'è che dici? Come lo presenti? La prima cosa che dico sicuramente non mi sarà mai capitato di assaggiare un ortrugo fatto così o una malvasia rosa perché la coltiviamo solo noi e perché dimenticatevi tutto quello che sono gli stereotipi che esistono e che purtroppo resistono ancora oggi sui colli piacentini perché abbiamo ancora questo passato di vini frizzanti dalla pronta beva, facili da bere, quindi un granché, no? Invece la prima cosa che dico è che io vi stupirò perché trovate un colli piacentini diversi diciamo da quello che era il passato perché sono cambiate le tecnologie, perché ci si mette più attenzione eccetera e riusciamo a fare anche dei vini da invecchiamento che non hanno nulla da invidiare anche a quelli di altre regioni dove magari sono più famosi per i vini rossi affinati in botte o in barricche e quindi sì, inizio proprio con un visto più rossi, sarà una sorpresa per voi perché è così, è quello che diciamo di tutti i giorni. Ed è un bel approccio, su una scala da 1 a 100, quando parli dell'ortrugo, quante persone non l'hanno mai assaggiato? Il 60% Ecco, quindi come dire, insomma fai veramente un lavoro di, cioè come dire, proprio di catechismo, no? In qualche modo. Assolutamente, sì sì. Ma infatti ho il genio un po' della maestra perché mia mamma era una maestra di scuola elementare e mi ha trasmesso questa passione per l'istruzione, quindi quando andiamo a questi eventi, alle fiere o li presentiamo, sia io anche che la mia collega Irene, niente, noi ci parte la parlantina, no? E quindi continuiamo a fiume a raccontare della storia dell'ortrugo, della storia della cantina, della storia dei coli piacentini e devo dire che questo approccio appunto narrativo, non didastico, non siamo diciamo le maestre bacchettone, ha sempre affascinato l'ascoltatore o chi c'era davanti, tanto che spesso si ricordano più di noi che dei vini. Però guarda che puoi associarli. Sì sì, no, poi dopo dico, no ma sai, ma ci siamo visti alla fiera aenologica, piuttosto che al Vinitali, no? E io avevo assaggiato quel vino bianco frizzante con quel nome, fatto con quell'uva dallo strano nome, oppure si ricordano il nome del vino, ma magari non il vitigno con cui è stato fatto. Però quello che riusciamo a fare è proprio creare un'empatia col pubblico che ci ha sempre permesso poi di allacciare delle bellissime relazioni con i clienti, sia privati anche che invece esercenti, ristoratori, amicizie proprio, che sono diventate amicizie. Qual è l'identikit del tuo consumatore? Te lo sei mai chiesto? Chi è il tuo consumatore? Voi ne dite di ogni ed è bellissimo, perché spaziate molto, ma tu te lo sei mai chiesto? O come te lo immagini? Allora sì, io me lo immagino come un po' dendi, perché siccome abbiamo queste etichette un po' retrovinte, quindi io me lo immagino come, per certi vini come l'ortrugo ad esempio spumantizzato, come un ragazzo sui 35-40 anni, molto stiloso, che magari si va a fare anche la barbea da quei barbieri super chic che adesso sono tornati di moda, quindi magari con la camicia, con le bretelle, il gilet, la giacca, e invece lei, la donna, invece anche lei è una donna comunque sui 35-40 anni, invece molto più anni 70, un po' sbarazzina, un po' brillante, che ama divertirsi e ama però anche allo stesso tempo cercare e scoprire cose nuove, dedicarsi all'arte, dedicarsi alla musica, quindi persone sicuramente acculturate, ma quelle persone però che si divertono mentre imparano. Ok, quindi un po' hipster e un po' unconventional, questo insomma è il succo. Hai lì una bottiglia della tua azienda che ci vuoi presentare, così insomma ci parli un po' perché sai che la particolarità di Retro Etichetta è che noi qui non apriamo bottiglie, ma vi facciamo venire voglia di andarle a cercare, e quindi facci vedere la bottiglia che ci vuoi presentare. Da da! Eccola qua! Semicroma! Eccola qua! Allora sì, Semicroma è il mio vino, perché questo vino è nato perché ho rotto le scatole a mio marito all'immerosibile, perché volevo un rosso sfumantizzato, ma non lo volevo produrre con vino nero, che di solito si usa il vino nero per produrre. In zona da noi usano anche ovviamente l'ambrusco, però io sono un amante e innamorata persa della Malvasia Rosa, che è questa uva che coltiviamo noi altre tre cantine in tutto il mondo, e si tratta di una mutazione genetica della Malvasia Aromatica di Candia. Normalmente ne abbiamo sempre fatto un vino dolce da fine pasto, una vendemmia tardiva, a cui però anno dopo anno ho abbassato il residuo zuccherino, perché io non amo particolarmente i vini troppo dolci, stucchevoli, e siccome ha questo profumo intenso di rosa, quando siamo entrati in azienda, questo passito sapeva un po' di bubblegum, insomma, tanto per dire. Invece, abbassando invece il residuo zuccherino e dando la possibilità all'uva di esprimersi, siamo riusciti ad avere un passito molto più accattivante, più interessante. E poi, insomma, mentre assaggiavamo le basi, per fare la vendemmia tardiva, ovviamente si partiva da una versione secca, a cui aggiungere il mosso. E ho detto, scusatemi, ma perché noi continuiamo a fare un vino fermo, un po' dolcino? Dico, questo fa è un'uva che va benissimo, però la bollicina dobbiamo dare, io dico, dobbiamo farla parlare, la malvasia rosa, perché ha bisogno di esprimersi. E quindi nel 2018, quindi due anni fa, abbiamo prodotto la prima bottiglia di malvasia rosa sfumantizzata, il semicroma, e l'abbiamo presentata a Vinitaly insieme a Yandagata e poi anche ad altre manifestazioni. E pensa che proprio con la prima release abbiamo vinto la medaglia di bronzo all'IVSC. Quindi questa è la 2019, dove anche qui, da un extra dry che era l'annata 2018, siamo passati a un brut, sempre per la mia lotta personale contro i desidui zuccherini, e ne è venuto fuori uno sfumante a mio parere unico, ma unico perché non esistono, è un po' molto usata questa parola, unico, ma effettivamente questo sfumante sa di rosa, sa di melograno, sa di pompelma, ha una bollicina fine che proprio ti solletica il palato e in bocca, essendo secco, risalta molto anche l'acidità di quest'uva, nonostante i nostri terreni siano argillosi, quindi non si penserebbe che poi si possa ottenere un vino di questo tipo. Invece ha questa ecidità meravigliosa e niente, è il vino con cui festeggio sempre il mio compleanno. Bene, ci hai fatto veramente incuriosire, sei molto brava nello spiegare con la tua passione. Silvia, tante parole per descrivere il vino, questa è un'altra domanda che io faccio sempre qui agli amici di Retroetichetta. Qual è un aggettivo, una parola che a te piacerebbe fosse usata per descrivere proprio i tuoi vini? A me piacque tantissimo la parola gastronomico, perché indica comunque una caratteristica che accomuna tutti i nostri vini, nel senso che abbiamo vini che sono facilmente abbinabili a piatti di qualsiasi genere, nel senso che anche i nostri rossi, cioè perché non con il pesce, per esempio, che una volta non viene accettato questo tipo di abbinamento, oppure anche perché dico con la pizza. Cioè io ad esempio il semicroma se mi chiedono con cosa lo abbineresti dico bevetelo con la pizza perché sta benissimo. Quale pizza? Quale pizza, Silvia, l'ordini? Beh, la pizza margherita, cioè la base, la va, sì sì, la pizza margherita perché il pomodoro che ha un po' questa acidità e la grassissima della mozzarella con diciamo le caratteristiche di questo vino ci stanno benissimo perché lo accompagnano, pulisce la bocca il vino e diciamo esalta anche poi anche questi aromi di lieviti che sono sia un po' nel vino e anche nella pizza. Quindi Silvia beviamo il vino con la pizza. Ah guarda, io ne parlo da anni di questa cosa quindi qui sfondi una porta aperta. Silvia tu bevi il vino degli altri? Sì, sempre. Sempre. E hai lì una bottiglia di un vino che ci vuoi parlare che magari lo bevi stasera che c'era nella tua cantina di chi ci vuoi parlare? Allora vi parlo di questa piccola cantina vi faccio vedere questa etichetta che è meravigliosa ed è disegnata dalla titolare sono anche lì moglie e marito che gestiscono questa cantina che si chiama Martilde sono i nostri vicini dell'oltrepopavese e questo che vi sto presentando si chiama Nina ed è un pino nero del 2014 perché io sono un amante del pino nero e benvenuta nel club esatto un po' scontata però no no ci sta ci sta ci sta benissimo ok e dimmi trovi il loro il loro pino nero particolarmente piacevole molto si ha una bellissima acidità prima di tutto perché a me piacciono i pino neri comunque che vengono tenuti con questa acidità spiccata e si esaltano i profumi diciamo tutta la frutta rossa piuttosto che farne un vino un po' troppo importante ecco amo i vini un po' tipo i gutturni superiori quindi che sono leggeri con la bella acidità un bel equilibrio anche una setosità e questo vino io lo trovo molto molto buono perché è veramente buono lo è brava stasera finisce stasera finisce sicuro e quelli sono i vini buoni quelli quando la bottiglia è finita e ops non ce ne siamo accorti esatto assolutamente e lei ha tutte queste etichette che oltretutto sono affascinanti perché le disegna con tutti gli animali della della sua parte agricola perché comunque anche un cavallo ha le occhi le galline disegna i suoi cani un amante dei cani comunque sono bravissimi e simpaticissimi oltretutto bene grazie per averci fatto scoprire questa questa piccola zenziale oltre po' pavese Silvia in questo momento particolare in cui anche come dire l'acquisto del consumo del vino ha iniziato a viaggiare molto su altre piattaforme già esistenti come quella dell'e-commerce e così via chi volesse trovare e acquistare i vostri vini voi li vendete tramite il vostro sito o vi appoggiate ad altri allora no adesso sarà attivo entro fine giugno perché ci stiamo lavorando il nostro e-commerce ma molto più semplicemente all'interno della pagina dei contatti trovate il numero di telefono e email a cui poterci scrivere il catalogo dei prodotti lo trovate ovviamente sul nostro sito internet nella sezione in bottiglia e quindi una telefonata una mail poi abbiamo anche mandato delle newsletter in questo periodo per informare tutti coloro che in vario titolo avevamo incontrato perché comunque la vendita che facciamo adesso è con spedizione gratuita proprio per aiutare anche le persone che sono a casa hanno difficoltà a spostarsi a ricevere i nostri vini quindi a breve di conness ma adesso una telefonata e una mail e noi vi mandiamo tutto bene io ringrazio Silvia Bandini di l'azienda Mossi 1558 grazie mille Silvia per essere stata con noi a Retro Etichetta Special Edition per questi giorni di Globplotter for Friends e io spero di vederti presto in azienda e invito tutti voi a fare questa gita fuori porta in questa fantastica fantastica zona da assaggiare iniziate dall'Ortrugo vi prego perché insomma veramente bisogna scoprirlo ecco io io te lo dico perché sono stata anche ambasciatrice e quindi insomma Alizio quando ne parlavo vedevo alle volte c'è questi occhi delle persone di cosa mi stai parlando a punto interrogativo però poi una volta una volta che poi lo assaggiavano ci si parlava del territorio guardate e scoprire ancora di più la nostra bella Italia tramite dei prodotti così unici e territoriali grazie ancora Silvia grazie a te Adua dai a presto speriamo a prestissimo ciao